Gli occhi di Kaylee si spalancarono, sentendo le mani di Getro che le scivolavano sui fianchi, prima di appiattirsi sul suo addome. Le sue braccia cominciarono a staccarsi dal collo di Getro. «Lasciali lì!» rantolò lui. La sua voce era dolce, ma ferma e risoluta. «Non muovere le braccia, lasciali lì, affinché lui possa vederti!» «Mack!» Il suo nome era una protesta sussurrata. «Mack scosse la testa, lentamente. Le ciocche di capelli neri, come la notte, le accarezzavano le spalle e continuava a guardarla con le ciglia abbassate a metà, sugli occhi di un grigio metallico. «Pensa solo a sentire, Kaye!» le disse. «E lasciami guardare, lasciami vedere il tuo piacere. Sai quale godimento riesco a raggiungere anche solo guardandoti venire? Vedendo il piacere che cresce dentro di te finché l'estasi non è troppo sfrenata perché tu possa resisterle?» Kaylee stava tremando. Sentiva i brividi percorrere il corpo, impotente di fronte alle ondate inebrianti di desiderio evocate delle parole di Mack. Come si poteva negare l'espressione nei suoi occhi? Pura possessività, ancora lì. Kaylee aveva l'impressione che una volta che Jeter fosse uscito dalla loro vita, ciò che essi avevano non sarebbe mai più accaduto. Ma c'era anche l'amore. Riusciva a vedere l'amore che Mack provava per lei brillare ora più intensamente di quanto avesse mai fatto in precedenza. Non c'era modo di dubitarne. Poteva anche concedere a un altro uomo di toccarla, ma in quel momento Kaylee sentì che Mack le toccava l'anima. Questo era un pezzo di Menage proibito di Laura Lee. Il primo romanzo di questa autrice che viene tradotto in Italia dalla legge redditore e speriamo ovviamente che sia il primo di molti, perché veramente nessuna è brava quanto lei a esplorare tutte le nuance dell'erotismo senza però cadere mai nell'evorgare o nel triviale. Dunque, come avvertenza, questo è un libro dedicato a chi già ama il genere, a chi lo vuole scoprire o a chi è interessato. Chi invece ama magari i linguaggi fioriti, libri molto più casti o in cui l'essesso non abbia una parte preponderante, ovviamente farebbe bene a non comprarlo. Per tutti gli altri invece è caldamente consigliato, soprattutto appunto per iniziare a scoprire la Lee, il suo linguaggio, il suo mondo. Un mondo che parte dal corpo, dalla sensualità, dal contatto fisico per poi arrivare ai sentimenti, all'anima e non il percorso contrario come spesso si trova in tanti romance dove c'è prima l'innamoramento, dove c'è prima l'interesse che parte da affinità comuni e poi alla fine, spesso a volte, magari in maniera accennata o negli ultimi capitoli, si arriva a una consumazione. Qui spesso si parte esattamente dall'opposto. È una maniera di vivere e di interpretare la scrittura ed è una maniera molto interessante, per cui le descrizioni sono estremamente vivide, oltre a essere estremamente dirette ed esplicite. C'è una fisicità che pervade tutte le pagine del libro, dall'inizio alla fine. Ed è anche un modo di interpretare le relazioni umane. In questo caso ci troviamo in un triangolo particolare perché i due protagonisti, o meglio la coppia protagonista, è una doppia coppia, nel senso che c'è un agente dell'FBI, Mac, che prima fa coppia con un collega, amico, poi complice, getro, nello spartirsi le loro donne. Una volta è la donna di uno, una volta è la donna di un altro, però alla fine si compone sempre un triangolo. Dopodiché c'è un'altra coppia, ovvero quella formata da Mac e da Kylie. Nel momento in cui la conosce lui lascia la sua vita precedente, quindi lascia anche i divertimenti o forse vizi per qualcuno che condivideva con getro in questo famoso club di Washington dove gli uomini andavano appunto per spartirsi le donne. Inizia una nuova vita con lei, apparentemente nel solco della normalità, in una cittadina di provincia dove lui era cresciuto, si dedica all'agricoltura, ad allevare i cavalli. Una coppia assolutamente normale. Una coppia che poi di nuovo diverrà un triangolo, perché ad un certo punto, dopo tre anni di quella che sembrava una vita apparentemente idiliaca e tranquilla, di nuovo irromperà un bisogno prepotente, un bisogno che non assomiglia né alla degradazione né al vizio che si può pensare dall'accenno a un club per soli uomini e che cambierà profondamente tutti e tre i protagonisti di questa storia. Le ragioni che hanno portato Mac e Getro a condividere le proprie donne affondano in un passato fatto di violenze, di abusi, di soprusi e anche in una professione che in qualche modo ha represso la loro parte più delicata, essendo entrambi agenti dell'FBI che lavorano sotto copertura, o meglio che hanno lavorato, perché ad un certo punto Mac deciderà di licenziarsi e iniziare una nuova vita con Kaylee. Quello che però rimane dentro di lui è questa maniera di essere tutto sommato emotivamente, distaccato dagli altri. L'unica persona con cui riesce a stabilire un legame è Kaylee, l'unica altra con cui era riuscita a stabilire un legame emotivo profondo di un qualche valore era stato appunto Getro. Ci ritroviamo per cui di fronte a un triangolo un pochino inusuale, perché non ci sono tre persone che vogliono semplicemente divertirsi facendo qualcosa di un po' proibito, benché il titolo rimandi a questo. È diverso, ci sono tre persone che forse da sole non sono complete, forse nemmeno in coppia sono complete, ma che tutte e tre insieme hanno un senso, al di là di quelli che possono essere i giudizi morali o quelli che sono le proprie idee sull'amore, questo libro riesce, secondo me, in maniera convincente, a dare uno spaccato di quello che può accadere a tre persone sotto certi aspetti estremamente comuni che si trovano di fronte però ad una situazione eccezionale, senza essere scandalizzati, perché l'autrice non è scandalizzata, né vuole essere in nessun modo pruriginosa, vuole cercare di capire cosa sentono i suoi personaggi. E questo lo rimanda molto bene, perché tutte le domande che loro si pongono e che fanno porre a noi indirettamente sono quelle giuste. Anche noi ci chiediamo cosa faremo nella loro circostanza, se è così sbagliato, se davvero non è possibile contemplare qualcosa di simile, anche se di primo acchitto diremmo di no. Dunque l'autrice riesce perfettamente nel suo scopo, coinvolgendoci nella storia, facendoci arrivare all'anima dei suoi personaggi, mettendoli a nudo non solo perché sono spogliati dai loro vestiti, ma perché sono anche spogliati delle loro difese. Difese che hanno eretto per tanto tempo e che invece dovranno distruggere pezzo per pezzo per cercare una forma di felicità. Felicità che probabilmente non è una felicità scontata, una felicità che ha sempre un prezzo, che però può essere una felicità differente. Non tutti siamo uguali, come ci ha ricordato Laura Lee. Alcune persone non possono essere incasellate e vanno decisamente fuori dagli schemi. Dunque, chi può dire a qualcun altro cosa fare della propria vita, come gestire i propri rapporti sentimentali, quando non si fa del male a nessuno, perché condannare a priori un menage? L'autrice non lo fa, credo che molte lettrici non lo faranno, soprattutto si rimane in qualche maniera incantati dall'affrontare con estrema naturalezza un romanzo che potrebbe appunto essere scabroso, perché Laura Lee è talmente brava da togliere qualsiasi patina, come ho detto all'inizio, di trivialità e di volgarità, accompagnandoci per mano durante tutto lo svolgimento, anche nei momenti forse un pochino più duri, nei momenti più difficili. Credo che sia, da un certo punto di vista, una scommessa vinta. Non è il miglior romanzo di Laura Lee, però è molto bello. Confesso che avendo ne letti altri di questa stessa serie, essendo questo comunque un po' avanti, almeno in ordine cronologico, mi aspettavo che fosse incalando. Invece è un libro in crescendo, è un libro che lascia qualcosa nel momento in cui lo si chiude, che fa riflettere, che fa comunque rimuginare in qualche maniera su dei temi anche importanti, ovvero cos'è l'amore, cos'è la dipendenza, se quanto noi siamo in grado di affrontare i nostri demoni, se in realtà ci conformiamo a quello che gli altri si aspettano da noi, o invece abbiamo il coraggio, la forza di perseguire la nostra vera natura. Spesso e volentieri non lo facciamo, spesso e volentieri ci nascondiamo, usiamo l'ipocrisia, addirittura diventiamo qualcun altro per compiacere forse la gente, forse qualcuno che intendiamo fare innamorare di noi. I protagonisti di questo libro alla fine hanno il coraggio di essere se stessi e di andare fino in fondo. Quindi è un libro che vi consiglio caldamente, che consiglio anzi forse di leggere anche in coppia, perché è un libro che può essere apprezzato anche da un compagno, da un marito, da un fidanzato. Vi farà passare delle belle ore e credo che vi farà venire una curiosità per tutto, ovviamente una curiosità intellettuale, per tutto forse un genere sia di racconti che magari anche di ambientazioni. Quindi ci aspettiamo altri romanzi di Loralee al più presto.